Carino il ragazzo, eh? Bel corpo qua. Come ti sei sentito davanti a questo del catcalling da parte di un uomo? Come ti sei sentito? Come sentirebbe una ragazza a mio popolo? Questo è solo un esperimento sociale, ma sono cose che capitano veramente. Il catcalling consiste in commenti inappropriati, fischi, apprezzamenti indesiderati, solitamente fatti per strada e molto spesso nei confronti delle donne. In questo esperimento sociale vedrete un uomo farlo ad altri uomini. Lo scopo di questo video è quello di far comprendere alle persone come si sentono molto spesso le donne in queste situazioni. Guardate cosa è successo. Aspetti qualcuno anche te? Sto aspettando nessuno? Carino che sei comunque. Sei single? Non parli italiano? Non parli italiano? Sei single? No, è vero italiano. Oh, io ero etero? No, è vero italiano. Che carino. Ciao. Piacere. Vai a casa? Vai a casa, hai finito di lavorare. Sei fidanzato? Ah, sempre. Davvero? Sei fedele? Non ci gridi. Ma che ne so, oggi come oggi. Scusa, stasera cosa fa uno così bello? Che fai stasera? Niente. Dai, noi usciamo. Ma come no? Tutti uguali sti uomini. Stai correndo da me? Che f***o. Ma poi è una bella sberla, eh? Ma come è il f***o? No, è lui, lui, non lei. Noi vogliamo i maschi. Che f***o. Carino il ragazzo, eh? Bel corpo qua. È un esperimento sociale, guarda, sulle telecamere, giù e giù. In realtà lui è un attore. Volevo chiederti una cosa. Ho già visto io. Come ti sei sentito davanti a questo, del catcalling, da parte di un uomo? Come ti sei sentito? Come si sentirebbe una ragazza a mio volto? Quindi? Vabbè, un po', non me l'aspettavo, ovviamente. Che bel corpo il ragazzo. Si può toccare? No, ok. Dai! Mai provato nella vita? Aspetta che poi ti manda un audio. No, no. Come no? Ma chi sei poi? Eh, la vita bisogna conoscere. Come ti chiami, piacere, Vladi? Cristian. Ma sono etero. Perché? Perché sì. Ma dai, prova. Guarda che è un bel fisico. Come ti sei sentito dal catcalling da parte di un uomo? Io sento una domanda così, non sapevo cosa rispondere. Ma che ti dico? Ma come poverino? Mi ci stava bene. Ma come ti sei sentito? Ti sei sentito un po' a disagio o qualcosa del genere? Eh, un po' stranito. Nel senso, nessuno mi ha mai fatto una domanda del genere. Ah, ok. Ma poi lo scopo del video è far capire come le donne si sentono. Quindi facendo questo noi vogliamo far capire. Ok. Capisci come è dell'altra parte. Io sarei nel panno della donna. Esatto. E la povera vittima in difesa. Catrolling, ecco, ragazzi. Catrolling al contrario. Bravissimo. Esatto. Tutti con questi telefonini. Che fai stasera? Parlo con te, eh? Che fai il timido? Ma dai, che maleducato. Che carino. Che bello. Che fai stasera? Sei timido? Ma non rispondi? Guarda che parlo con te, eh. Ma non è che se ne frega. Guarda che sei carino. Ma se ne frega. Ma come che se ne frega? Ma il rischio di promettare. Ma non posso. No, il telefono. Ma se voi ci mettiamo il telefono insieme. Carino. Buonasera. Che fai di bello? Da solo. Da solo? Sì. Ma hai un po' di compagnia? No, grazie. Dai. Che fai di bello stasera? Che fai di bello stasera? Sto provando a giocare a tennis. Il mio amico cercavamo compagnia. Però lui è timido. Dai, provare cose nuove. Sei etero? Meglio. Ma noi ci piacciono di etero. Dai, vieni qua. Non posso provarci. Sto aspettando il mio. Ma hai provato? No, mai provato. Uno deve seguire i propri stinti. E non c'è l'istinto. Non ti spiega neanche un po'? No. Beh. Ti può toccare? No, posso. Che fai di bello? Non ti spiega l'italiano. Perché ti spiega l'italiano? Try a spiega l'italiano con me. No, non ti spiega. Che fai di? Che fai di? Che fai di? Voglio andare a cercare l'ordine. Ah, dopo? Sei free after? No. Non ti spiega. Se vuoi, sei free. Vuoi cambiare il numero? No, non ti spiega. Non ti spiega. Non ti spiega. Non ti spiega. Vuoi cambiare il numero? Con te? Sì. E io sono da Nigeria. Buono. Ok. In Nigeria non praticiamo questo. Non praticiamo. Non praticiamo questo. Why? È buono, provate. La vita è solo una. Il nostro governo è un po' di killa. Killa? Il mio governo è un po' di killa. Ah, ok. Mamma mia che freddo. Non hai freddo? No. Ci scaldiamo? Dai. Perché no? Rallenta, sto parlando con te. Che sei timido? Non puoi. Come non puoi? Perché? Guarda che non mordo, eh. Complimenti che pacco. Ma come no? Si può toccare? Dai, te la miglioro io. È rosso! È rosso! No! Si può toccare? Il pacco. Eh, dai, complimenti. Perché scappi? Beh, se vuoi mangiare insieme. È uno sperimento sociale. Stiamo facendo un catcalling al contrario. Conosci il catcalling? È quando le donne vengono molestate per strada da altri uomini. Allora, noi adesso lo stiamo facendo al contrario. Ti volevo chiedere, come ti sei sentito quando ti ha detto queste cose? È una richiesta un po' particolare. Come? Scusami? È una richiesta un po' particolare. Ci stava. Come ti sei sentito? Come ti... Quando te l'ha detto, come ti sei sentito? Da pastiglia. Ok, vogliamo far capire agli uomini che se fanno del catcalling alle donne è la stessa cosa quando lui lo fa con gli altri uomini che si sentono a disagio, quindi... Allora, ho pure tutta la pioggia. Salve, da me? Posso toccarti il c***o? No. Ti darebbe fastidio? Sì, mi metterebbe a disagio. Davvero? Come mai? Sì. Ma tocco piano? Ma... No, ma anche da una tipa mi metterebbe a disagio. A meno che non ci sia confidente. E più che altro. Beh, lo possiamo prendere se vuoi. No, ragazzo. Come ti sei sentito? Ovviamente ho preso provvista un po'... Non è la paura più che altro è... Domanda improvvisa che mi lasciate un po'... Capito. Usaggio? Ehm... Sì. Fastidio anche. Certo. Che bel manzo. Che corpicino il bimbo. Ragazzo, bel corpo. Si può toccare? Eh? Si può toccare? Virtualmente. Ma spalla solo. Come virtualmente? Che bello. Che fai stasera? Faccio skate. Beh, anche stasera. Vuoi compagnia? Da solo è noioso, eh? No, c'ho la mia crew. La tua crew? Che carino che sei. Che carino che sei. Dove vai di bello? In stazione. In stazione? Che fai stasera? Eh, vado a Varese. Aspetta che piove. Sei single? Come una donna? Ti va di provare cose nuove? Sono finanziato anch'io, eh? Mamma che buono. Eccitante. Ti posso toccare? Ti posso toccare? Dai, sei bellissimo. Una spalla, una coscia. Dai! Scambi il numero? Complimenti. Posso toccarti all'adominale? Se gli toccassi il c***o Ti darebbe fastidio? Perché? Che carino! Ma sei gay? Sei etero? Va bene. Beh dai, ci può stare. Come ti senti disidio con quello che ti ha detto? Non bene. Non bene? In che modo? Lo direi. Dal modo no, troppo aggressivo. Ecco. Ma ti sei sentito a disagio. Conto complimenti, lo apprezziamo. Bravo. Però se una persona ti arriva, se lo dice così... Bravo. Pensa come si sentono le donne dal catcalling dalla parte degli uomini. E noi lo stiamo facendo proprio apposta per far capire agli uomini come si può sentire di quanto riguarda tu. No, hai fatto una benedizia, ti fa proprio bene. Quindi, grazie a voi. Sei fidanzato davvero? Spero che il video possa far riflettere molte persone e che questo fenomeno accada sempre meno. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per i prossimi esperimenti sociali. Ciao! 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 Grazie a tutti.